Ciao a tutti ragazzi e ragazze sono Lele Jackson e questo è un video difficile è un video difficile che sto già pensando da molto tempo di fare e sapevo che un giorno sarebbe arrivato il momento di farlo io mi commuoverò in questo video perché non è un video semplice è stato un viaggio durato 10 anzi forse anche 11 anni è un percorso che si chiude un cerchio che si chiude e fa male ma anche bene in che senso ovviamente sto dando il mio dio definitivo a Lele Jackson al mio personaggio e all'essere un impersonator di Michael quindi questo sarà l'ultimo video in assoluto per ora però al 90% ti posso dire che è finita questo è un avvio un mio ritiro definitivo nell'essere un impersonator io ci teniamo a fare questo video per ringraziarvi ringraziare tutti voi per il continuo e forte supporto che mi avete sempre dato negli anni da sempre in ogni tipologia di video che era uno sfogo su quello che dicevano a Michael sul ballare su tutto quanto faccio fatica a parlare ragazzi sono emozionato come se mi sentissi davanti a me in questo momento tutti voi che mi avete seguito in tutti questi anni e che mi avete sopportato difeso su battaglie e battaglie ovviamente il canale non si cancellerà rimarrà tutto per sempre ragazzi per sempre e il jackson esisterà per sempre questo youtube il canale non chiuderà anzi rimarrà aperto i video resteranno io ringrazio Michael ringrazio Michael anche perché è stato e sarà per sempre una linea guida come persona e come artista per me nella vita non smetterò mai di ringraziarlo abbastanza per ciò che ha fatto per me ovviamente per tutti i suoi fan parlo in prima persona ovviamente io mi ringrazio immensamente a tutti per avermi sempre sopportato ci ho pensato molto e è giunto il momento di di lasciare di mollare di mollare una corda che è stata tesa per tanto tanto tempo e mi ha aiutato a credere in me stesso a avere più autostima nella mia persona mi ha aiutato in tante cose mi ha fatto fare questa esperienza mi ha fatto fare tante tante esperienze mi ha fatto vivere molte molte emozioni come nel 2014 a rainbow magic quando quella sarà una giornata che non dimenticherò mai per tutta la mia vita e e non smetto mai di ringraziare tutti voi per avermi seguito con tanta passione per molti molti anni vi mando un bacio a tutti è stato un olore è stato un olore mangiare il mio idolo michael jackson per così tanti anni alla prossima arrivederci a tutti e grazie ancora ciao Grazie per la visione! Grazie per la visione!